Ciao a tutti, siamo qui con Linda. Grazie Linda intanto di essere qui, venuta a condividere quali sono stati i punti di crescita nel tuo percorso. Vuoi dire qualcosa di te? Innanzitutto grazie per questa opportunità bellissima. Mi chiamo Linda, sono una ragazza di 35 anni, mamma di due bimbi piccoli stupendi. Mi sento felice. Come ti sentivi prima di iniziare a lavorare insieme? Io premetto che sono arrivata a questo percorso ed ero in uno stato totale di disorientamento, di frustrazione, di dolore. Stavo molto male, sono uscita da una malattia che mi ha lasciato tanti strascichi a livello fisico ma anche emotivo. Penso sia stata la chiusura di quello che era il periodo in cui io mi sentivo male. Continuavo ad avere frustrazione perché non riuscivo a sentirmi bene con me stessa, a casa con i miei figli, con mio marito, nel mio posto di lavoro. Non c'era niente che mi portasse soddisfazione fino in fondo. Vivevo sempre una profonda insoddisfazione. Ho fatto il covid in maniera molto importante, però questa è stata la mia salvezza. Perché prima di arrivare in questo percorso, questo incidente mi ha fatto in modo da darmi una grande scossa. Quindi mi ha fatto vedere che in realtà in quello stato io non potevo andare avanti. Vuoi raccontare alle persone che ci ascoltano esattamente cosa c'era che ti faceva sentire male nella tua vita? Ero sempre arrabbiata, mi dava fastidio qualsiasi cosa. Mi dava fastidio banalmente tornare a casa e trovare una cosa in disordine. Mi dava fastidio mio figlio che piangeva, mio figlio che mi abbracciava, mi dava fastidio mio marito che mi parlava, mi dava fastidio il contesto lavorativo, banalmente un collega che entrava forse una volta di più nel mio ufficio. Ero infastidita da qualsiasi cosa che mi circondasse. Provavo fastidio in tutto ciò che si avvicinava a me, tutto ciò che cercava di comunicare con me, interagire con me, era un fastidio. Cioè stavo male io ovunque, in qualsiasi posto mi trovassi, non mi sentivo mai al posto giusto e questo di riflesso mi dava fastidio. Mi ero completamente persa e nel totale smarrimento non sapevo nemmeno più io cosa cercare. E cosa ti ha portato a scegliere di lavorare insieme? Allora anzitutto ho avuto una forte spinta dopo questa esperienza diciamo di premorte che ho avuto a cercare una soluzione. Semplicemente ho chiesto di essere aiutata a cercare la soluzione. Quando ho incontrato banalmente su internet facendo una ricerca per la quale ho avuto un'intuizione e poi di lì ho preso i contatti con la mia tutor e ho sentito subito che c'era qualcosa che si era incastrato e che ne è arrivato qualcosa in linea con quello che poteva essere il mio percorso di vita. Ho fatto tanti percorsi di crescita però erano più intesi come la motivazione personale, insomma molto più mentali, più rituali. Quando ho parlato con Erika sono riuscita a far combaciare quello che per me era chiaro a livello mentale e poi con l'integrazione di quella che era tutta la parte spirituale emotiva che forse gli altri corsi non ti danno. Adesso veniamo al presente. Abbiamo parlato di com'era prima. Adesso vuoi condividere con le persone che ti ascolteranno quali sono i risultati che invece hai già avuto? Allora la prima cosa che voglio dire assolutamente è che io oggi sono felice tutti i giorni in ogni secondo della mia vita e questa è la vittoria più bella e della soddisfazione più bella. Adesso io sto bene a casa con i miei figli. Il mio star bene è entrato anche dentro casa. Il fatto che io stia bene, che sia in armonia, di riflesso ha rovesciato tutta questa cosa all'interno dell'ambiente familiare ma non solo proprio di casa inteso come i miei figli e il mio compagno ma anche le interazioni con i parenti più stretti, più vicini, le amicizie e poi soprattutto il fatto di vivere ogni giorno con la soddisfazione di essermi potuta permettere questa felicità e di godermela. Non è una cosina da poco eh? No no ma infatti io penso di aver fatto tantissimi passi, uno ma perché me lo sono permessa e due perché ho proprio cambiato visione della vita. Anche al lavoro avevo una situazione molto molto difficile. Io oggi vengo a lavorare anche se come dire in qualche modo non riconosco che il lavoro che sto facendo adesso è il lavoro della mia vita ma io ci sto bene oggi nel mio ufficio ma perché sto bene con me stessa, sto bene con i colleghi poi alla fine sì tanta spiritualità ma poi bisogna anche portarlo un po' nel concreto della propria vita nel senso è il fatto di vivere bene quelle otto ore anche se sai che non stai facendo il lavoro della tua vita ma stai bene e con i colleghi si crea comunque un altro tipo di relazione e interazione. È una grande cosa anche perché il fatto che tu sia consapevole del fatto che non è il lavoro della tua vita prima di tutto non ti dice, non ti obbliga a stare male nel frattempo che tu magari permetterai alla vita di mostrarti che cosa c'è esattamente più giusto per te e da quello che tu mi dici non sei chiusa a questa opportunità. No Assolutamente, assolutamente anche perché adesso non ho più l'ansia del futuro prima avevo quest'ansia che continuavo a dire non mi piace quello che sto facendo chissà cosa devo fare avevo quest'ansia continua del dover ricercare una scappatoia pur che fosse invece adesso io vivo ogni giorno così come viene però in questo così come viene ogni giorno è una trasformazione ogni giorno arrivano cose bellissime, degli spunti soprattutto anche portati poi dalla sinergia che si è creata con il gruppo di lavoro del percorso è veramente magico perché c'è un'interazione pazzesca e hai la possibilità di confrontarti con persone che fanno un cammino assolutamente cioè ognuno il suo ma identico al tuo quindi c'è una condivisione veramente sincera e incondizionata ecco questo non è comune a tutti i gruppi di lavoro e assolutamente forse in nessun ambiente standard quindi è difficile che si crei un gruppo così in un ufficio per esempio però questa cosa ti dà poi veramente tanti spunti per poterli poi appunto riversare nella tua vita di tutti i giorni da quello che mi dici tu come anche quello che mi dite quando facciamo gli incontri è bello perché si crea complicità nel senso che ciascuno di voi fa il tifo per tutti gli altri componenti del gruppo affinché ciascuno riesca a raggiungere i migliori risultati anzi vi spronate vi date una mano assolutamente e poi il fatto che noi in qualche modo all'inizio forse siamo un po' invitati no a cercare questi baddi poi in realtà sono finti questi baddi perché si creano delle amicizie cioè non esiste più il oddio con chi lavoro questo mese è spontaneo che io con alcune persone e da quando sono entrata che mi sento ma non ci siamo mai in qualche modo obbligate a lavorare insieme no si è creato proprio un'amicizia cioè è un percorso continuo costante e volontario eh sì è bellissimo quando si crea questa questa cosa anche perché poi ti fa venir voglia di lavorare di crescere assolutamente assolutamente soprattutto perché tu puoi fare dei lavori e lavorare con te stessa sapendo uno di parlare la stessa lingua perché a volte non è così scontato ecco no e poi sapere di essere nel non giudizio e poter esprimere tutte le tue difficoltà che magari in un altro ambiente potrebbe essere complesso e quindi questo secondo me è un aspetto molto importante del percorso il non sentirsi mai 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 soli mai anzi ci siamo noi c'è tutto il gruppo poi creandosi questo questo tipo di di rapporto proprio penso che sia anche spontaneo per alcuni di voi sentirvi quando magari vedete che qualcuno è in difficoltà certo assolutamente assolutamente quando uno ha una difficoltà la prima cosa che fa è contattare almeno la persona con la quale tu ti senti più affine a quel tema del gruppo quindi magari io so che è una difficoltà con la quale ho più diciamo affinità con un'altra persona del gruppo e contatto lei e si lavora insieme e si risolve sempre vedi ci sono tante persone che hanno paura che il percorso di crescita soprattutto quando si fa un percorso spirituale pensano che allontani dagli altri invece semplicemente avvicina persone più affini almeno quando è fatto in un certo modo assolutamente e ti posso anche dire che a livello anche mio di coppia di relazione e a livello anche di comunicazione con i miei figli questa cosa l'ho proprio vista in maniera molto forte e concreta cioè se prima c'era quasi una sorta di chiamiamolo fastidio di non comunicazione tra me per dire mio compagno oggi anche coi bambini in qualche modo si si creano spontaneamente dei momenti da condividere mentre prima non c'era verso cioè prima eravamo uno che scappava da una parte uno dall'altra gli impegni i figli e la scuola e il lavoro cioè ognuno scappava nelle proprie direzioni no mentre la magia è stata che spontaneamente si sono creati dei momenti da condividere banalmente io era 5-6 anni che io e mio marito non facevamo un weekend da soli insieme non era mai capitato e invece spontaneamente il nonno mi dice mi prendo i bambini e me li porto un weekend porta se li vai proprio qualche tempo fa non ce ne saremmo accorti nel senso magari uno avrebbe continuato il sabato prendi va a fare la spesa pulisci casa l'altro sarebbe andato che ne so a fare altre commissioni non avremmo mai avuto la gioia di condividere questi momenti e invece ci siamo proprio detti sai che c'è che ci andiamo a fare proprio una bella gita e ci siamo goduti questo weekend senza fare chissà quali cose stratosferiche ma siamo stati insieme nella condivisione così come si creano dei pomeriggi cosa che prima non capitava perché chi andava a lavorare chi puliva a casa eccetera dove c'è un pomeriggio in cui non abbiamo niente da fare tutti e quattro andiamo al parco a giocare a pallone ma sembra una banalità ma io non l'avevo mai vista nella mia famiglia una cosa del genere anche perché tu tra i tuoi risultati hai anche iniziato a fare delle cose che avevi messo un po' da parte e che ti faceva soffrire mettere da parte certo sì io ho sempre avuto questa passione per la pallavolo ho sempre giocato alla vola col primo figlio sono riuscita a riniziare col secondo è stato un po' più problematico però mi sono permessa di andare a fare qualche allenamento con le mie vecchie compagne e ho ritrovato la gioia e poi ho iniziato a fare un paio di percorsi su cose che mi piaceva approfondire senza più quel senso di colpa del dire oddio lascio un weekend i miei figli da soli a casa ma lo faccio proprio con amore loro lo sentono perché condividono con me queste cose no mamma va via sabato e domenica dove vai cosa fai vado lì vado a suonare il tamburo vado a fare le cose poi quando torno mi chiedono anche come andate mi chiedono quando li porto con loro mentre prima non me le sono mai permesse queste cose perché avevo questo senso del dovere che continuava a picchiarmi in testa e dire no tu sei una mamma tu devi stare a casa come fanno i bambini due giorni senza di te bisogna muovere marie monti e i nonni e incrociare gli impegni di tutti e marito lavora invece le cose naturalmente si sistemano da sole io ho bisogno di fare un weekend quel corso naturalmente le cose si mettono a posto cioè arriva il nonno che mi dice vabbè sabato li tengo io non ti preoccupare si sistema tutto di sola non devo più combattere con niente meraviglioso anche perché tu ci hai dato degli esempi molto concreti di come il lavoro che stai facendo va a portare un beneficio anzi tanti benefici nella tua vita di tutti i giorni quindi questo aiuterà tante persone a vedere che tutto questo è possibile cosa pensi che potrà comportare tutto questo per te nel tuo futuro io penso di essere già nel mio futuro nel senso che io sto bene così come sono oggi no vedendo come come sono cambiata io come è cambiato il mondo intorno a me in oddio ad agosto mi sono iscritta siamo a marzo quindi non so saranno sette otto mesi forse anche meno l'evoluzione che è arrivata in me posso solo che dire che sarà ancora più bella e ancora più gioiosa e nel mio futuro io non ho motivo di pensare cose diverse dal fatto che sarò più felice ancora più di così io mi sento già di vivere nel mio futuro nel senso non ho bisogno di stare nel futuro per stare bene credo che più mi permetterò di continuare a stare in questa condizione e più continuerò ad avvicinarmi a tutto ciò che mi piace fare quindi magari potrebbe essere per lavoro o cambiare casa e avvicinarmi al mare sono tutte cose che in questo momento so che mi possono rendere più felice di così tutto bene lascio che arriveranno se dovranno arrivare e voilà direi che è una grande cosa sei pronta a miglioramenti ma questo non ti impedisce di essere già felice adesso esatto esatto e la condizione migliore che possiamo vivere ciascuno di noi quale messaggio vuoi lasciare alle persone che avranno modo di vedere questa tua intervista il messaggio più importante che va trasmesso con il mio esempio la mia storia mi ha insegnato questo è di lasciarsi andare cioè non resistere lasciare che la vita ci parli non resistere alle nostre resistenze lasciarle veramente fare perché solo così riusciremo a scoprire chi siamo e a portarlo nel mondo io oggi mi sto permettendo di fare delle cose e questa cosa mi rende felice e questa felicità la vedono gli altri ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi e di essere stata così generosa nel condividere la esperienza di crescita grazie ciao linda grazie a te ciao